Beh sì, evidente, ma non lo giro. Allora, qua stiamo polarizzando il confronto. Io non faccio parte del comitato tecnico-scientifico, però in questo momento mi aspetto che il comitato tecnico-scientifico dica agli italiani la verità. Che vuol dire? Uscite tranquillamente, riprendete a vivere, andate al ristorante, andate in banca, andate in vacanza. Se entrate in un locale chiuso mettete la mascherina, ma continuate a vivere più di prima, perché altrimenti la società non parte e alla fine Conte, tra due anni, se c'è ancora, dovrà andare a chiederne 800 di miliardi. Ma questo lo dirà la politica, però. Perché non basteranno. Quello che non capisco, professore, ma mi interessa molto il suo punto di vista. Sentite, signori, se voi pensate che io sia qua stasera, sono molto stanco, per mettermi contro qualcuno avete sbagliato. No, ma tutt'altro, anzi. Sono dall'inizio uno che cerca di dire quello che osserva e mi inizio ad avere anche le palle piene. Cioè, allora, è assolutamente evidente quello che accade, ok? Allora, se noi oggi in Lombardia abbiamo un morto dichiarato per Covid, vuol dire che non sta succedendo nulla. Punto. Poi possiamo costruire tutte le favole che volete. Questa è la realtà italiana oggi. Allora, su questo... Allora, su questo...